allora io ho finito la borsetta se si vede l'ultima parte l'ho fatta riprendendo la base dello stesso colore praticamente ho inserito ho finito il filo vedete è inserito il colore abbiamo il cane che abbaia e dopo di che sono andata avanti due giri all'ultimo giro ho fatto contatto punti pari da una parte dall'altra ho fatto il manico direttamente interrompendo il basta finisci interrompendo il lavoro facendo 15 punti e poi continuando tutta la dall'altra parte lo stesso 15 punti ritornando indietro ho fatto semplicemente delle maglie basse intorno ai 15 punti che avevo calcolato poi ho fatto lo stesso giro e ha fatto altri 15 punti dall'altra parte e poi ho chiuso immediatamente il lavoro adesso vedete c'è il nodino qua e se ci metterò un po di colla a caldo perché non si veda comunque la borsetta è venuta molto carina vedete metà di questa è l'interno ci sono ancora qualche filo da tagliare molto comoda molto larga molto pratica e non penso di averci aggiungere altro perché già abbastanza allegra così